Il calcio parliamo della Pescara che ha ingaggiato l'esterno d'attacco Eugenio Dursi, classe 1995 in prestito dal Napoli, prestito che diventerà o potrebbe diventare obbligo di riscatto solo in caso di promozione del Delfino in Serie B. 26 anni compiuti lo scorso maggio, Dursi è un pupillo di Gaetano Oteri, 11 gol proprio a Bari nell'ultimo campionato di Serie C Coppa Italia compresa nel 2018-2019 col tecnico siciliano anche a Catanzaro, 14 gol in campionato 2 in Coppa Italia. Da domani si aggregerà, anzi da questa sera si aggregerà al gruppo il ritiro da giovedì scorso a Palena. Domani il Pescara chiuderà un'altra operazione con il Napoli, infatti arriverà in prestito la punta centrale di struttura Franco Ferrari, classe 1995 Italo-Argentino, 26 anni, il prossimo mese di agosto. Ferrari ha segnato 5 gol quest'anno nel Comor in prestito dal Napoli vincendo il campionato di Serie C, 12 reti a Piacenza da gennaio a giugno 2019, il DS era Luca Matteassi che dunque lo conosce molto bene, 13 a Pistoia sempre in Serie C nel 2017-2018. Intanto stiamo vedendo la perla di Eugenio Dursi nei play-off, questo invece è uno dei gol segnati in carriera da Franco Ferrari. Domani dunque sarà chiusa questa operazione con il Napoli per l'ingaggio dell'Italo-Argentino, classe 1995. Fase di stallo nella trattativa per il ritorno di Filippo Dellicarri, classe 1999, è un centrale assai gradito a Gaetano Auteri e di proprietà della Juve, ma è cresciuto nel vivaio biancazzurro e il Pescara infatti conserva il 50% in caso di rivendita futura. Altre trattative, nessun passo avanti con il Bari per il centrocampista vastese, classe 1991 Carlo Derisio, trascorsi anche nell'Ecelano, era giovanissimo da gennaio a giugno 2012 in Serie C2 e in uscita dal Bari cui è legato da un altro anno di contratto. Il Pescara tra l'altro ha chiesto alla Juve anche Matteo Brunori, si tratterebbe di un ritorno condizionale quanto mai d'obbligo perché l'attaccante italo-brasiliano ha già rifiutato l'eventuale trasferimento. E' ufficiale Masciangelo al Benevento in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione del Benevento in Serie A. Numericamente, facendo un po' la sintesi delle operazioni del Pescara, intanto questa è la quinta operazione che è stata effettuata in entrata, ovvero parlando di Eugenio Dursi dopo De Marchi, Zappella, Ianes e Pompetti. Pompetti non è stato ancora ufficializzato da Inter e Pescara, torna Pompetti, anche questo un ritorno perché è cresciuto nel Pescara classe 2000 il ritorno di Pompetti dall'Inter in prestito. Numericamente in difesa c'è bisogno ancora di due centrali, di un laterale destro, oltre naturalmente a Zappella e di un mancino o due se in zita come sembra dovesse lasciare il Pescara. Centrocampo è in attacco, invece ci sono tanti giocatori, in questo momento arriveranno altri giocatori se solo a fronte naturalmente di uscite. Vedremo quello che succederà.